Siamo a inizio marzo quando alcuni genitori dell'asilo Chicco di Grano di via Grani di Nerva nel quartiere Ardiatino di Roma cominciano a preoccuparsi perché la scuola frequentata dai loro bambini ha deciso di cancellare la festa del papà. Per l'occasione era stata organizzata una semplice colazione, tra l'altro facoltativa, nella quale i figli invitavano i genitori a condividere un momento insieme. Ma in seguito alle pressioni di una coppia di genitori omosessuali sulla coordinatrice, la festa viene cancellata e sostituita con una giornata aperta alle famiglie nel nome della massima inclusione e della negazione delle discriminazioni, dice la scuola, che come se non bastasse decide di sopprimere anche la festa della mamma il prossimo 13 maggio. È discriminatoria, come sembra essere discriminatorio avere un padre e una madre, solo che non si comprende bene nei confronti di chi si è discriminatorio. Perché in questo episodio di Roma essere discriminati sono stati i genitori dei bambini nemmeno interpellati dalla scuola che invece ha accolto la richiesta di due uomini che definiscono stereotipi di genere superati le pericolose e sovversive fesse del papà e della mamma. Posizione questa condivisa dallo stesso ottavo municipio, in questo momento commissariato dal sindaco Virginia Raggi.